Un posto al sole anticipazioni. Nunzio fa una confessione a Rossella su Diana. Lunedì, 20 maggio 2024. Ha luogo un durissimo confronto tra Roberto e Raffaele. I due arrivano addirittura alle mani, finendo per coinvolgere anche altri personaggi non direttamente interessati alla vicenda di Ida e del piccolo Tommy. Poco dopo, alla ricerca di consigli, il Giordano si trova al centro di pareri nettamente discordanti tra Diego e Renato. Continuano, intanto, in Damiano le paure legate alla sua relazione con Viola, il poliziotto non riesce a dimenticare ciò che ha visto tra la donna ed Eugenio. Le sue perplessità saranno lecite. La Bruni è davvero sicura di aver per sempre archiviato il suo matrimonio con il magistrato. Dopo la vicenda legata all'Anselmi, la donna ha riconosciuto nell'ex quei tratti che, anni addietro, la spinsero a sceglierlo come proprio partner. Nunzio, intanto, non smette di dedicare tempo ed attenzione a Diana. Verso la donna sta per sviluppare dei veri e propri sentimenti? Martedì, 21 maggio 2024. Non servono a niente le parole di Renato e Filippo rivolte a Roberto. Ferry vuole procedere legalmente contro Raffaele e farle la pagare a caro prezzo. Soltanto Diego, forse, sarà in grado di risolvere l'incresciosa situazione che si è venuta a creare a Palazzo Palladini. Prima, però, il ragazzo deve convincere Ida a lasciare per sempre casa Ferry. Lei, temendo di perdere il piccolo Tommy, non è per niente disposta ad un sacrificio del genere. Continua l'insofferenza di Mariella verso l'amicizia tra Guido e Claudia che sembra celare un coccente segreto, presumibilmente legato al suo passato. La vicinanza tra il vigile e la donna è sempre più forte, soprattutto quando lui decide di accompagnarla a fare un importantissimo provino. Sboccerà la passione tra i due. Rossella è sempre più provata a causa dell'indifferenza di Nunzio. Ciò la porta a trarre le dovute e necessarie conclusioni. Mercoledì, 22 maggio 2024. Tra Claudia e Guido scatta un momento di pericolosa vicinanza. Tra i due ci sono tutti i presupposti per un coinvolgimento emotivo e sentimentale. Intanto, a Palazzo Palladini, Raffaele, alla luce degli ultimi scontri avuti contro Roberto, si sente precipitare in una spirale di grande sconforto. Marina rientra dalla sua vacanza completamente ignara di quanto successo tra Giordano e suo marito. Quest'ultimo continua a fare pressioni su Diego, soprattutto dopo quanto accaduto con il padre. Ida non sa quale decisione prendere. Mariella è sul punto di fare una bruttissima scoperta. Si tratta di un qualcosa che la sconvolgerà non poco. Damiano non riesce più ad essere felice accanto a Viola dopo quello che ha visto. Riccardo è alle prese con la confessione fatta da Rossella al giovane Camarota. Il dottore si sente completamente distrutto e fa veramente fatica a concentrarsi sul lavoro. Giovedì, 23 maggio 2024. Palazzo Palladini si prepara ad una riunione condominiale davvero molto importante per decidere su una questione delicatissima. Raffaele verrà forse, cacciato. Non ricoprirà più la mansione di portiere. Marina, alla fine, scoprirà tutto. Intanto, continua la strategia di Ferri volta a mettere pressione al Giordano e dal figlio Diego in modo da piegare ai suoi ricatti anche Ida. Arriva, intanto, per Nunzio la consapevolezza che la ripresa di Diana sarà più dura di quello che credeva. L'architetta non è ancora fuori pericolo di vita. Riccardo, invece, si sforza ancora di superare i risentimenti e le angosce verso Rossella. Ma non è affatto semplice, in quanto l'uomo è sempre a stretto contatto con lei per via del lavoro in ospedale. Guido è rimasto letteralmente stregato da Claudia e dal suo fascino indiscusso. Il vigile sente di provare dei sentimenti per lei. Mariella è sempre più di cattivo umore. Venerdì, 24 maggio 2024. Mentre la data delle nozze di Clara ed Eduardo si avvicina, la ragazza si trova davanti ad un'ultima, importante sfida. Ce la farà superare egregiamente anche questa. Alberto, intanto, sta per essere messo al corrente di una verità in grado di provocargli una reazione molto forte. La riunione di condominio organizzata da Ferri contro Raffaele sembra avere ancora esito incerto. Alla fine, Roberto avrà la meglio o gli altri inquilini si schiereranno dalla parte dello storico portiere. Quest'ultimo riuscirà a preservare il posto a cui tantissimo. Nunzio, nonostante la confessione di Rossella, ammette di sentirsi sempre più legato emotivamente a Diana, situazione che spinge la giovane Graziani a riflettere, ancora una volta, sui suoi veri sentimenti. Riccardo è sempre più scosso dalle ultime vicende. Viola si accorge che Damiano è freddo e distante e decide di indagare. Grazie a tutti.